Ciao e benvenuti a una nuova puntata della rubrica dell'oracolo. Andiamo a vedere che cosa intervo per noi l'universo nella settimana che va da lunedì primo di maggio a domenica 7 di maggio e come al solito lo facciamo con il mio oracolo, l'oracolo della magia gialla. Andiamo a vedere qual è l'emozione dominante queste settimane. Andiamo poi a vedere qual è la legge universale all'opera. E infine andiamo a vedere qual è l'azione che le carte ci consigliano di mettere in essere così da armonizzarci con la legge universale all'opera. Allora, l'emozione dominante questa settimana è La fiducia, continua, continua, ma poi ti dico una cosa. La legge dominante questa settimana è La legge della sfida, poi ti dico una cosa. E infine l'azione è la guarigione. Allora, queste carte sono sconvolgenti perché se non l'hai già fatto corri a leggere la mia lettura per il sabba di Beltane per il primo maggio e rimarrai scioccato o scioccata così come ne sto rimanendo io, perché vedere quanto è potente l'energia, anche se lo sappiamo, lo diciamo sempre eccetera, ma quando la vediamo che si mette in essere è sempre sconvolgente. Quindi se non l'hai già fatto, poi ti metto il link, corri sul mio blog www.leggidelamagia.com e vai a leggere la lettura per il sabba di Beltane. Comunque l'ho mandata anche via newsletter, se non sei iscritto alla newsletter provvedi. Detto questo, ti ricordo che domani, martedì 2 di maggio, c'è il corso sull'abbondanza, webinar dal vivo con me in diretta alle 21. Se non sei iscritto, provvedi immediatamente, c'è ancora un giorno. Detto questo, passiamo alle energie. Scusate, sono veramente emozionata, poi se leggete la lettura di Beltane capite perché. Allora, veniamo già da settimana scorsa, oltre il ponte c'era l'arcobaleno. Ecco, probabilmente abbiamo raggiunto il nostro arcobaleno. Questa settimana possiamo ulteriormente far crescere la fiducia dentro di noi. Alla fine, quando vediamo che le cose vanno come noi crediamo, come noi pensiamo, come noi speriamo, la nostra fiducia si rafforza, è normale. Iniziamo un po' ad abituarci a questo arcobaleno che abbiamo raggiunto. Potrebbe essere che in questa settimana, quella passata e in questa, avrete qualche entrata extra economica, qualche piccola vincita, quindi se non lo fate mai, io non lo faccio praticamente mai, ma questa settimana sarebbe una buona cosa provare a giocare. una piccola somma, ovviamente, al superenalotto, al mongrattevincio, qualcosa che vi ispira. Giocate, perché appunto, oltre il ponte dell'arcobaleno, si trova la pentola delle monete, delle precauni, e quindi forse potrebbe arrivare una piccola vincita. Magari non arriva dal gioco, ma può arrivare come un pagamento extra, come un qualcosa che vi doveva essere pagato e ormai ci avvate quasi rinunciato. Insomma, aspettatevi una piccola entretina economica. Per chi partecipa al mio corso, poi la affronteremo e la espanderemo ulteriormente, questa buona vibrazione che ci accompagna questa settimana, ma insomma vale per tutti. C'è la legge della sfida. La legge della sfida è appunto a crederci. L'universo ci pone di fronte solo e soltanto sfide che possiamo affrontare e vincere. Ecco, quella che dobbiamo vincere questa settimana è quella di continuare ad avere fiducia. Abbiamo percorso il ponte, siamo giunti all'arcobaleno, godiamocelo. Verremo appunto, la vita ci lancerà il quanto della sfida, noi saremo assolutamente pronti a raccoglierlo e a vincere la nostra sfida. Questa sfida che andremo a vincere ci porterà ad una guarigione. Può essere fisica, quindi se siete stati poco bene, se avete avuto qualche acciacco, se avete avuto qualcosa, questa è una settimana buona che vi porta a guarigione. Se non è fisica può essere anche appunto mentale, quindi potreste iniziare finalmente a guarire da delle traumi o ferite che ci hanno accompagnato per un po' troppo tempo. Ecco, è il momento di lasciarli andare. Se andiamo a fare un controllo questa settimana della nostra parte interiore, possiamo verificare con gioia, potremmo arrivare a verificare con gioia, che delle parti di noi sono guarite, quindi è giunto il momento di gettare via vecchi cerotti, vecchie bende di dolori, malattie, pensieri che pensavamo di avere e che invece non abbiamo più, perché appunto siamo guariti. Quindi la settimana che ci aspetta, visto anche che appunto ci sarà il primo maggio, un'energia di rinnovamento, un'energia che va nella seconda fase del cammino dell'anno, godiamocela al massimo con una bellissima energia che ci accompagna, colorata, osservate la natura che inizia ad avere sempre più, dei colori forti, i fiori che sbocciano, i prati che sono brillanti, guardate, utilizzate il colore, utilizzate i profumi per andare verso la guarigione, togliete le vecchie bende, le vecchie fasciature, le vecchie appunto cose che non ci servono più e vinciamo la nostra sfida di rinascere fiduciosi e guariti. Splendida settimana e questa appunto è la lettura settimanale, vai sul blog veramente a leggere anche quella per il sabato di Beltane, perché le carte ci hanno fatto un bel regalo. Felice settimana e alla prossima!